Musica Ben trovati a questa edizione del nostro TG Giorno. In primo piano la maxifrode da 100 milioni di euro nella vendita di auto. Le indagini sono partite dalla Versilia. Partiamo da qua con il servizio di Federico Conti. 45 persone e 21 società sono state denunciate dalla finanza per una maxifrode fiscale da 100 milioni di euro nelle vendite di auto. Le indagini sono partite da una verifica fiscale eseguita dalle fiamme gialle di Viareggio in una piccola concessionaria multimarca della Versilia Storica. Durante i controlli è emerso che la società acquistava auto o vetture a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, riformendosi costantemente da soggetti che non versavano nulla allo Stato, società che non presentavano dichiarazioni fiscali o da privati prestanome nulla tenenti. Attraverso intercettazioni, appostamenti e pedinamenti dal Salone Versiliese si è risaliti ad un sistema di evasione su scala nazionale ramificato attraverso vari concessionari che faceva capo ad un gruppo criminale attivo su Roma e provincia. In tutto circa 6.000 auto vendute in giro per l'Italia a prezzi stracciati, un giro di affari di 100 milioni, un danno alle casse dello Stato per IVA non versata di circa 30 milioni. Dalle indagini è emerso che questi gruppi delinquenziali si rifornivano di autoveicoli o in Italia o all'estero frodando l'IVA, quindi fingendo di essere esportatori abituali e quindi riuscendo ad acquistare le autovetture senza pagare l'IVA. Naturalmente poi le autovetture non venivano esportate ma venivano rivendute a concessionari in tutta Italia senza versare l'IVA. Attualmente il titolare del concessionario versiliese è a giudizio in primo grado, i restanti soggetti invece sono stati denunciati e la Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini. L'accusa formulata dalla Procura di Roma è di associazione per delinquere, truffa aggravata, falso, omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nessuna conseguenza invece per chi ha acquistato le auto, spesso in buona fede, benché i prezzi fossero evidentemente fuori mercato. Sono in corso ulteriori accertamenti patrimoniali per riuscire a sequestrare quanto è stato indebitamente sottratto alle casse dello Stato. Adesso è il momento degli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Andiamo sul nostro sito, vi ricordo l'indirizzo www.noitv.it, lo vedete tra le notizie. In primo piano coronavirus risalgono i contagi in regione e in provincia, ma cala il tasso di positività. Ecco il dettaglio, quasi triplicati i nuovi positivi in Toscana nelle ultime 24 ore, resta basso il tasso di positività a fronte di oltre 31.400 tamponi effettuati. I dati nel dettaglio, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 3.840, il tasso di positività è al 12,2%, 747 i pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 50 quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 18 decessi, 3 di questi nella nostra provincia di Lucca. Il dato provinciale sono 540 i nuovi positivi in provincia. E adesso cambiamo pagina, andiamo a Castelnuovo Garfagnana, Unicredit finanzia la costruzione di una RSA. La Senectus, società del gruppo Caron, ha firmato un accordo con Unicredit per un finanziamento a impatto sociale finalizzato alla costruzione di una nuova residenza sanitaria assistenziale a Castelnuovo Garfagnana, un'operazione da 5 milioni di euro che in due anni porterà alla costruzione di una struttura con 120 posti letto convenzionabili con il Servizio Sanitario Nazionale. La nuova RSA porterà alla creazione di oltre 100 nuovi posti di lavoro e verrà gestita da Codeless Sociale Onlus, tra le più grandi in Italia, ad occuparsi della gestione di residenze sociosanitarie. L'accordo prevede inoltre un'erogazione liberale da parte di Senectus per fornire prestazioni gratuite a favore di persone che si trovino in situazione di disagio. In piazza contro la guerra, in tanti, è la manifestazione che si è tenuta sempre a Castelnuovo. Uniti per la pace, uniti per dire no alla guerra in Ucraina. Domenica, una bella risposta della Valle del Serchio, che unita sotto i colori delle bandiere della pace, si è ritrovata in piazza Umberto I a Castelnuovo per la manifestazione organizzata sotto il coordinamento dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e con la collaborazione di tante associazioni di volontariato del territorio, oltre che delle scuole. La terra di Garfagnana, da sempre sensibile alla tutela dei diritti umani e vicina a chi si trova in difficoltà, ha voluto unirsi al coro di condanna e partecipare attivamente al sostegno umanitario alla popolazione, duramente provata dal conflitto. Alla manifestazione in piazza, la presenza compatta dei sindaci della Garfagnana, con i labari dei comuni e con l'appoggio anche dei sindaci della Mediavalle. Tra gli interventi, quelli dell'assessore regionale Stefano Baccelli, del presidente dell'Unione dei Comuni Andrea Tagliasacchi, dei ragazzi delle scuole dell'ISI Garfagnana, di Giovanni Bolognini dell'associazione Compartecipo, della direttrice della Caritas Diocesana Donatella Turri, di Monsignor Angelo Pioli e di padre Volodimer, dell'esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino presente in Italia. Per me, come per una persona di Ucraina, un ucraino, un cittadino, uno che ama il proprio paese, non c'è differenza dove bombardano est, ovest, sud, nord. Il paese è tutto nostro e quando bombardato da qualsiasi parte fa male a me, fa male a tutti. A colorare la piazza insieme alle bandiere della pace e quelle dei colori dell'Ucraina, sventolate da alcuni cittadini di questa nazione presente alla manifestazione. La giornata si è conclusa con il rinnovo dell'impegno da parte di tutti, istituzioni, associazioni di volontariato e società civile, a portare avanti ogni forma di mobilitazione, solidarietà e accoglienza nei confronti del popolo ucraino. Di sostegno alle popolazioni ucraine, anche in termini economici, anche di disponibilità di accoglienza concreta tramite la disponibilità anche di privati che ci hanno già dato appunto disponibilità per le abitazioni e per accoglierli. Dopo lo stop degli autotrasportatori si ferma anche il mondo della pesca. A Via Reggio i pescarecci sono fermi in porto per protesta. Sono ancorati in banchina nel porto di Via Reggio per far sentire il loro grido di ribellione. Dopo gli autotrasportatori si ferma anche il mondo della pesca. Il motivo è sempre lo stesso, il caro gasolio che non permette più di sostenere la loro attività. Guadagniamo di più restando fermi in porto, dicono in coro i pescatori, che stamattina si sono riuniti in banchina per far sentire la loro voce di protesta contro il governo. Tutta la marineria italiana si è fermata e anche noi partecipiamo. Noi Livorno, La Spezia, Santo Stefano, tutto il terreno e noi siamo in agitazione e siamo preoccupati fortemente che dovremmo mettere a casa circa 300 famiglie, solo la marineria di Via Reggio. Quindi i pescarecci rimangono in banchina, non escono? No, non usciamo fino a quando non sappiamo qualcosa di Roma. Dopo mercoledì c'è un appuntamento con il sottosegretario e poi decideremo da parte. Noi abbiamo circa 300 persone a lavorare, siamo 50 barchi. In tarda mattinata i pescatori in sciopero, accompagnati da Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca, hanno poi incontrato Elisa Petrossino, capo servizio operativo della Capitaneria di Porto di Via Reggio, organo istituzionale di riferimento della categoria. Una grande collaborazione con la Capitaneria che ringraziamo, ci stanno sostenendo in questo momento difficoltà. abbiamo anche concordato delle attività da fare insieme, sia per quanto riguarda le ispezioni a bordo, oppure anche proprio problematiche tecniche. Io le ringrazio ancora per averci ricevuto oggi e per il sostegno che ci stanno dando. Parliamo adesso di formazione. L'Arcidiocesi di Lucca, assieme all'Ufficio Scolastico Territoriale, ha seglato un protocollo d'intesa per lanciare di nuovi percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. L'Arcidiocesi di Lucca e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara firmano un protocollo d'intesa per dei nuovi PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Si tratta di progetti formativi che, come nel caso dell'alternanza scuola-lavoro, puntano ad avvicinare formazione ed esperienza professionale. Nel caso specifico apriranno agli studenti e ai docenti delle scuole superiori secondarie il patrimonio storico-artistico e anche le attività educative, ricreative ed assistenziali dell'Arcidiocesi. L'obiettivo è favorire l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze in ambito culturale, tecnico-amministrativo o ancora di servizio alla persona. L'Arcidiocesi può offrire moltissimo da questo punto di vista. Voi sapete che l'alternanza si muove da una parte sul discorso proprio anche tecnico, formativo e dall'altra però abbiamo tutto quell'aspetto, quel mondo della ricerca, abbiamo tutto quel mondo anche della formazione in senso generale, gli studi archivistici che possono essere importanti momenti di riferimento per i nostri studenti. Si tratta dunque di un'intesa che guarda in particolare alle mutevoli esigenze del mondo del terzo settore, della cultura e della promozione e che soprattutto guarda al mondo dei giovani, assicurando al contempo la coerenza delle competenze con gli obiettivi formativi previsti. La novità di questo approccio è che tutti gli uffici diocesani insieme si sono messi a servizio dei giovani, questa è una cosa importante perché i giovani hanno bisogno che gli adulti insieme si mettono al loro servizio in questo momento particolare, con diverse opportunità legate ovviamente al tipo di attività che fanno gli uffici, ma al di là di questo penso che sia importante che i giovani percepiscono che c'è un mondo adulto che si dà da fare per loro, per offrirgli opportunità, per aiutarli a crescere, per trovare anche, diciamo così, quell'orientamento che li può aiutare a fare le scelte giuste per il futuro, quindi questo penso sia molto importante. E restiamo in tema formazione perché la Confcommercio di Lucca e Massa Carrara lancia un corso gratuito per diventare addetti di sala. Un corso per formare camerieri e addetti di sala, figure professionali fondamentali del settore ristorazione da riscoprire e valorizzare. È questo il principale obiettivo di formazione, il nuovo percorso professionalizzante organizzato da Confcommercio con la collaborazione di alcuni imprenditori del territorio, chiamati in cattedra per insegnare e trasferire ai 20 iscritti competenze ed esperienza. 36 ore di lezione in aula e altrettante di stage, un corso interamente gratuito che prenderà il via lunedì 28 marzo e affronterà diverse tematiche, dalla storia della ristorazione alle tecniche di apparecchiatura, dalle basi del servizio alla sicurezza sul lavoro. Stiamo al centro, un ruolo, forse per certi aspetti è un po' sottovalutato, ma in un'economia professionale all'interno di un ristorante il ruolo del servizio, il ruolo del cameriere è fondamentale, è quello che fa vivere l'esperienza al nostro cliente, che è quello che poi lo fidelizza. Quindi questo ruolo ha bisogno di essere valorizzato per tornare ad essere anche attrattivo. Al termine del percorso è prevista una sessione di colloqui per far incontrare i candidati con le attività del settore, con la possibilità di un immediato sbocco professionale. Il ConfCommercio a distanza di pochi giorni abbiamo lanciato dopo Job Week anche un nuovo modo di formare il personale. Noi abbiamo ritenuto che la formazione sia ancora molto più importante, dare la possibilità a persone e alla struttura che poi avrà questo personale specializzato di avere il personale veramente capace a gestire e dare possibilità proprio alle persone di crescere all'interno dell'azienda. Andiamo a Capannori, dove è stato inaugurato un baby pit stop, uno spazio dedicato alle neomamme e ai loro bambini. Uno spazio riservato all'allattamento, rivolto a tutte le mamme che si spostano con i propri piccoli sul territorio. Ma anche ai papà, ai nonni e a tutti coloro che si prendono cura di un bambino. È stato inaugurato al Museo Atena di Via Carlo Piaggio a Capannori un baby pit stop. Lo spazio è stato realizzato dal Comune della Commissione Pari Opportunità in collaborazione con Unicef Lucca, che ha lanciato l'iniziativa nell'ambito del programma nazionale insieme per l'allattamento, l'associazione Lucca Senza Barriere e l'unità di pediatria dell'ospedale San Luca di Lucca. Quindi un luogo dove le persone che si troveranno ad allattare un bambino potranno fermarsi in un luogo riservato appunto per poter allattare un bimbo. Questo nell'ottica di consentire sempre di più un territorio accessibile per tutti. Ringraziamo per la collaborazione anche Lucca Senza Barriere che insieme alla Commissione Pari Opportunità ha ampliato quella che è già una mappatura di quelli che sono gli esercizi commerciali privati ma anche i luoghi pubblici in tema di accessibilità. Si va ad aggiungere questo chiaramente ai 26 luoghi già predisposti in provincia di Lucca. Speriamo che siano presto molti molti di più. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva. Grazie a tutti.